Salve cari amici, oggi nella società agricola Olleia andremo a scoprire il campo delle patate novelle. Appartenente alla famiglia delle solanacee, sono dei tuberi commestibili appartenenti alla famiglia delle solanum tuberosum. Sono ricche di potassio, vitamine e apportano benefici per il cuore, le ossa, i muscoli e la pelle. Hanno un potere disinfiammante e sono utili contro il diabete. Ora vi facciamo vedere come si colgono. Abbiamo quindi una parte aerea fogliare e la parte sottostante dove troviamo appunto il tubero. Eccolo qui, esce fuori dalla terra con tante piccole patatine pronte e pronte per essere lavate e cucinate. Guardate quante, guardate che belle! C'è anche qualcuna piccolina? Sono belle! Ok, ora le stiamo cogliendo, le porteremo in cucina e quindi vi attendo poi con il video della ricetta direttamente nella mia cucina. Grazie e al prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao!